Allora, io ti volevo soltanto chiedere, innanzitutto, come è stata questa tua esperienza che è passata dal ruolo dell'ancella, prima a parte quello di Elena, e passato dal ruolo dell'ancella a quello di Ophelia Suite? Beh, allora, innanzitutto io ti devo ringraziare perché con te ho fatto le due esperienze veramente tra le più, se non le più stravolgenti della mia vita, con due interpretazioni veramente uniche. Una Elena al processo, dove quella è stata veramente difficilissima, dove un processo vero e proprio davanti a 6.000 persone, al Teatro Greco di Siracusa, ma dove il pubblico non era nulla in confronto a te e a tutto il timore che mi faceva questa tua presenza, perché sapevo che sarebbe stato difficilissimo convincerti. E infatti mi hai condannata. E l'altra cosa difficilissima è stata appunto fare l'ancella da casa con una macchina da presa, meravigliosa esperienza e difficilissima, con una macchina da presa a un metro dal mio volto, è un primissimo piano per cui veramente senza poter proteggere nulla di sé, proprio nei pensieri e nel battito di ciglia. E devo dire che... Io posso dire che sei stata bravissima e hai avuto un grandissimo successo, perché sia a Siracusa come sei benissimo, ma soprattutto con l'ancella e con questa interpretazione così difficile, hai avuto un grande successo in streaming, perché l'abbiamo fatto in streaming. Purtroppo la pandemia ci ha costretto a chiudere le porte dei nostri teatri, ma noi abbiamo continuato intrepidi ad andare avanti con un teatro che è diventato sempre più partecipato, perché il nostro non è solo un teatro streaming, è un teatro on-life, è un teatro che riesce ad andare dovunque attraverso il satellite e con il satellite riusciamo a comunicare con tutto il mondo ed essere presenti qua, là e dovunque altrove. Questa è la cosa straordinaria che fa. Ecco, e lo so, questa è una cosa straordinaria, io voglio che il pubblico lo sappia, è la nostra chiave di lettura anche del futuro, non sappiamo cosa il futuro ci riserva. E noi abbiamo pensato e continuiamo a pensare che poiché la bellezza, la cultura, il nostro lavoro che attraverso il teatro e anche ispirazione di benessere non può essere ridotto ad un silenzio che fa male a tutti, davvero fa male a tutti. E così abbiamo trovato un sacco di esperienze e di modalità, coniugando insieme materiale e digitale perché venga fuori questa nuova straordinaria vicinanza tra il teatro, i teatranti e il pubblico. E la cosa bella è che gli spettacoli in questo teatro sono adattati allo streaming. Noi per Lancella abbiamo lavorato per quella visione streaming, tanto quanto per Ophelia, e questo è molto stimolante per un artista di vedere che grazie a una proposta di dire vai, mi fido, prova, osiamo, andiamo, allora le possibilità ci sono. È come superare un ostacolo se qualcuno dice vai, superalo, allora uno ci prova, magari cade, impara, ci riesce. Ti voglio dire un'ultima cosa, tu hai vinto il premio a Parigi lo scorso anno, Actor View Europe 2020, e noi siamo felici di ospitarti in questo spazio, non solo perché io ho una grande tradizione con Parigi, essendo legione d'onore francese, ma anche e soprattutto perché questo riconoscimento grande che tu hai ottenuto al di là dei confini italiani, per noi significa che il nostro teatro, insieme con te, potrà continuare ad offrire al nostro pubblico, ma non solo, al pubblico di tutto il mondo, rappresentazioni come questa Ophelia Suite, adesso ti faccio dire una parola, ma solo una parola su Ophelia Suite, perché poi bisogna vederla, così da poter essere, come dire, presenti sempre e comunque, come ho detto, nel mondo internazionale, oltre che nel nostro piccolo, grande mondo teatrale. Io ne sono orgogliosa perché sono un po' internazionale, nel senso che sono cresciuta in Tunisia, poi ho frequentato le scuole francesi, per cui sono bilingue, ho vissuto anche io tanti anni a Parigi, e quindi questo premio è anche questa Ophelia, è stata Ophelia poi il primo personaggio con il quale ho debuttato in teatro a 17 anni, con la regia di Carlo Cecchi nell'Amleto di Shakespeare, ovviamente, per cui tornare oggi con Ophelia, con questa Ophelia che per me è un valore di universalità, usiamo anche le tre lingue, che sono l'inglese, il francese e l'italiano, proprio alla ricerca di qualcosa che vada oltre ogni confine, perché io ho imparato da piccola che una parola non voleva dire esattamente la stessa cosa in un'altra lingua, e quindi proprio questa ricerca di trovare poi anche la lingua della musica, la lingua del sentimento che ci accomuna tutti e quindi poterlo fare qui, poterlo rappresentare qui in streaming, in questo teatro, che appunto ha questa vocazione di arrivare ovunque, è davvero un grande onore. Allora io spero che sarà un'esperienza anche questa bellissima, la faremo insieme e forse ne faremo ancora tante altre con il nostro grande pubblico nel mondo. Grazie, grazie mille.